l'hanno fatto, l'hanno fatto o no? sì, al Ministero del Traballo, alla Delegazione del Traballo no, all'azienda all'azienda, sì quindi ho avuto l'azienda che dire questo perché l'azienda quando vede un matrimonio non può immaginare che tal'empresa non esiste o ha sospendito momentaneamente l'azienda per l'azienda, per l'azienda, per l'azienda e qual'è la soluzione? la soluzione è questo, multiplicarlo per 2 nel 6 anni passato, recargarlo più il 35% e ingresarlo se vuoi chiedere, se vuoi chiedere a la direzione dalle una proposta, se la llevo perché l'azienda potremmo immediatamente la soluzione è questa soluzione soluzioniamo questo problema e poi già si arriva però questo non va a stare representando al sito hai che fare le seczioni per esempio Obrass Obrass Gerotti se vuoi se vuoi se vuoi se vuoi sono il servizio si vuoi hanno un servizio sui per esempio hai un caso l'angervool è contiene tutte queste e se o per esempio non è dividito, per esempio, di qui aca, pertenece a obras, solamente es portare es decir, poner obras, non è altra cosa, perché questo può caer, che mirore molto ma è un consello, perché perché quando si presenta si, poter ir a, poter ir a obras, poter andare a un altro sito, andare a un altro sito, lo meglio è, quando viene a la nomina, tu pones la seczione. Mira signor, noi stiamo intentando cercare le imprese, solo Rangelburg e General Borg, e obras, niente più, per questo stiamo intentando concentrare tutti i lavoratori, per questo e questo anno è cercare, perché Metsver non fa nulla e non c'è empleato, Tecnooldi non c'è nulla e non c'è empleato, Movil non c'è obra e non c'è empleato, per questo no? Il buon asesore fiscale che si può dire, non c'è, per questo, così erano libri, non c'è fare fiscale. Allora, per favore, dime che si può fare per il 2003, qual può essere un accord? Dice che il accordo deve essere in base a questo mondo, per 12, per 12, per 12 mesi l'anno passato. Allora, vediamo quanto, quanto sape? 80, 80 milioni. Te lo dico io. Sì. Sì. Sì, per favore, più o meno. Sì. No, perché sono 6, sono 5 per 12, sono 60, più del 35%, per favore, dai, te prego. Detto? Sì. Lo faccio che vediamo oggi per la 11. Sì. 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 Sì ne puede vediamo perché… Si fuori io, come si sono io, io sono io, io lo faccio. Sì. Sì, io lo faccio. in la administradora e in la direzione si ven che firmò qualcosa qui si sono informati, le puoi pensare si, però, dire che stiamo perché se non mi va a molestare mi llama, mi amenazano io voglio parlare con la direzione che mi ha chiamato e che mi ha detto che mi ha chiamato è quello che voglio dire non c'è problema di questo, di questo non si preoccupi tu sempre tu sì che mi suele dar la espalda io no è così a las 11 mi ha detto no, questo era la copia il viernes 7 il viernes 14 no? qui ne vedo? era creo che era 14 oggi siamo a 16 perché si se lo firmò poi il viernes 14 poi il viernes 14 era 14 e la nuova è stata innamorata sì è sì è non Grazie a tutti.